Tutti i punti vendita dell'Italia e quindi anche dell'Abruzzo sotto le insegne osciane e i persimpli stanno per passare al gruppo Conad. In Abruzzo e soprattutto nell'area metropolitana di Pescara la situazione è particolarmente preoccupante in quanto ci sono molti punti vendita che si sovrappongono con i punti vendita Conad già presenti e si corre il serio rischio che questa operazione comporti pesanti ripercussioni dal punto di vista occupazionale e questo il pensiero delle segreterie nazionali e regionali di Filcams CGL, Fisaskat Cisle e Will Tux che hanno già proclamato uno sciopero nazionale per domani di tutti i dipendenti Oshan, i persimpli. Questa è una grandissima operazione che Conad sta facendo a livello nazionale e che riguarderà anche l'Abruzzo. Noi siamo molto preoccupati da questa operazione perché ci sono tanti punti vendita che passeranno sotto l'insegna Conad ma noi non abbiamo alcuna garanzia del fatto che i lavoratori abbiano una salvaguardia occupazionale e che vengono mantenute le condizioni in essere. Conad è già presente in maniera molto importante nella nostra regione, ha una quota di mercato molto più alta di tutti qualsiasi altra società e molto più alta di quello che ha Conad negli altri territori per cui il fatto che acquisisce altri supermercati che spesso sono anche dirimpettai con i supermercati esistenti vuol dire che ci saranno indubbiamente degli esuberi e dei problemi occupazionali e su tutte queste cose Conad ad oggi non dà alcuna risposta. C'è forte preoccupazione se non a fase di passaggio dove la Conad non risponde, non dà risposte definitive nonostante le organizzazioni sindacali hanno ottenuto al Ministero l'ausilio di eventuali ammortizzatori sociali per quei punti vendita magari un po' più problematici quindi il non rispondere è sinonimo di preoccupazione. Forte preoccupazione non a caso noi domani saremo il 30 sotto il Ministero a manifestare contestualmente la trattativa. Conad dall'inizio occhi per loro perché noi oltretutto questa trattativa è partita anche voglio dire con partita male ed è finita anche peggio perché noi abbiamo sempre trattato con uno studio legale noi non abbiamo mai incontrato i titolari a trattare proprio la vicenda Conad Doshan e quindi abbiamo un problema fondamentale che è quello di capire le risposte e di avere delle risposte da questo grande gruppo. Loro avevano dichiarato 109 punti performanti, loro li chiamavano così. Dopo qualche settimana si sono resi conto che anche in questi punti dovevano essere trattati degli esuberi e quindi noi immaginiamo con paura e con terrore cosa ne sarà degli altri punti vendita che invece loro dichiarano impuri quindi da trattare in maniera particolare. Ecco vogliamo delle risposte per tutelare tutti i 18 mila lavoratori.